un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash oggi siamo con l'account ragazzi di onnidge per andare a provare un babbo natale con dio della guerra 8 e skill a 10 però la skill a 10 gliela dobbiamo andare a portare noi in questo momento senza perdere tempo quindi direi di andare subito a portare la skill a 10 a babbo natale che dovrebbe essere qui eccolo qua allora è a 9 dobbiamo andare a comprarci le gelatine ok allora le andiamo a prendere tutte quante 75 mila lasciamo così mille frammenti e prendiamo 100 essenze giganti con 75 k frammenti e ci andiamo a portare sulla skill a babbo allora eccola qua guadagna esperienza oggetti ragazzi ce ne vogliono un bel po e quindi andiamo direttamente a 100 vediamo un po quante ne mancano ok e abbiamo praticamente la skill a 10 andiamo a utilizzare e possiamo adesso provarlo facciamo qualche raid mettiamo babbo qui cupido diamo un po partono i due razzi ragazzi esattamente sugli eroi li ha praticamente polverizzati proviamo quest'altro mettiamo babbo e cupido così parte un razzone sui primi tre eroi e li fa fuori diciamo fa fuori mino e cupido che però ha resuscitato mettiamo la cura tira altri razzi vediamo un pochettino se i prossimi saranno indirizzati su questi altri eroi perfetto direi ne ha preso uno zucca ok vediamo un po dovrebbe riuscire a skillare un'altra volta su questi altri eroi e li ha uccisi usciamo da questo combattimento ragazzi davvero il è devastante proverei a questo punto un ultimissimo attacco qui ci vorrà un miracolo vediamo un po se riusciamo a beccare questi eroi con una cecchinata guardate ragazzi che cecchino dalla distanza fra tanti target si è andato a scegliere proprio questi eroi e se la bersama mi è sceso con control il quel maledetto stregone ce ne facciamo un altro facciamo così ok presi praticamente quasi spianati tutti ragazzi questo eroe in guerra tra gilde può svoltare basta uno stregone insieme e il gioco è fatto praticamente andiamo a bloccare tutti le bombette ce lo porteranno via comunque abbiamo capito che è devastante davvero devastante questo babbo natale con skill a 10 e dio della guerra 8 e volevo appunto farvelo vedere in questo mini video per farvi rendere conto del danno assurdo che può avere questo eroe che mi pare non avessi mai portato sul canale e quindi per questo video è tutto lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto è un commento io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video